Il cantautore toscano Marco Masini ha scelto Ravenna per girare il videoclip musicale del suo nuovo brano intitolato La parte chiara. Questa mattina il cantante insieme all'amico e regista Stefano Salvati e la sua troupe hanno girato alcune scene in piazza Kennedy che per l'occasione è stata completamente chiusa al traffico per alcuni minuti. Masini ha anticipato che la canzone tratta il tema della felicità e che anche altri luoghi di Ravenna saranno presenti all'interno del video. Che videoclip state girando e come mai è stata scelta proprio Ravenna? Innanzitutto voi mi vedete nei panni di un rappresentante o di un avvocato, una categoria comunque di viaggiatori perché il brano è un racconto della ricerca sostanzialmente della felicità che non si trova mai e che andiamo a cercare in un punto sconosciuto che troveremo dopo un lungo viaggio e di conseguenza abbiamo scelto Ravenna perché innanzitutto il mio amico nonché grande regista Stefano Salvati è di questi posti come si dice a Firenze ed è un profondo conoscitore di ogni angolo di questa città e mi ha consigliato questa città perché ci sono i presupposti per fare certe scene e per poterle girare in piena libertà e tranquillità grazie anche a delle sue amicizie è riuscita a ottenere permessi speciali in modo da avere campo libero e poter lavorare a tutti gli effetti con tutto il giorno a disposizione e con anche certi colori e certe dimensioni che servono per realizzare questo video